Oh, altra grande azione di Costa, quando il canestro mi sto, 24 a 5 per Costa, partenza forgorante, questo esordino in a 2 per la matricola di coach Pirola E ora recupera anche palla 29 secondi a fine, primo quarto, segna 20 secondi, 24 a 7, grande vantaggio per Costa Miglior partenza non poteva immaginarsi per questo ritorno in a 2 dopo 19 anni Cioè palla rubata da Cagliari, 3, 2, 1, tira lo scadere, 24 a 7, grandissimo primo quarto di Costa Due terribili per Cagliari, per ridurre ulteriormente lo svantaggio, si è un po' tormentata Costa E si è svegliata invece Cagliari decisamente, 22 a 35 comunque Ancora vantaggio di 13 per Costa, due liberi dentro 10 Pozzi, bella palla da Majorana Pozzi, canestro di Pozzi che manda Costa, in vantaggio di 14 punti all'intervallo, 37 a 23 Non sbaglia di un po' Sbaglia di un po' E il secondo alla bersaglia, 57 a 31, massimo vantaggio per Costa che continua a incrementare il suo margine in questo terzo quarto 10 secondi, oh palla rubata Canova, il contropiede per Majorano, 2 facili Bella azione di Costa, 58 a 31, dilaga Costa che si aggiudica anticipatamente i primi due punti della stagione dominando la Virtus Cagliari, 58 a 31, alla fine del terzo quarto, applausi a scena aperta per Costa Grazie a tutti Grazie a tutti